Torna la Fiera Primavera anche quest'anno, quali sono le maggiori novità? Quest'anno veramente abbiamo un programma ricchissimo, non solo un panorama di espositori che si va ampliando, anche con apporti da altre regioni, siamo molto contenti di poter dire che le aziende, le piccole aziende, le grandi aziende continuano a riconoscere il primato e la valenza di Fiera Primavera come luogo in cui tornare a investire. Questo per noi è molto importante, in un periodo di crisi in particolare avere la possibilità di toccare nel corso di 10 giorni una platea di almeno 260.000 visitatori significa per le aziende avere veramente la possibilità di raggiungere risultati che non raggiungono con promozioni o iniziative pubblicitarie, quindi riconoscono la grande importanza di Fiera Primavera e siamo molto contenti perché questo offre veramente un panorama ricchissimo, per cui qualunque cosa voi pensiate sicuramente la troverete a Fiera Primavera e con i prezzi concorrenziali Fiera perché tutti gli espositori garantiscono dei prezzi particolarmente vantaggiosi solo in occasione della Fiera. Accanto a questa parte importantissima commerciale che è la vera forza di Primavera, è ancora più ricco il programma di appuntamenti con lo sport Genoa, Sampdoria ma non solo, con il mondo ovviamente del sociale, avremo per la prima volta un ristorante etico che darà un contributo molto forte a una comunità cittadina, è ricchissimo il panorama degli eventi, degli spettacoli al pomeriggio, al padiglione C per i bambini ci sarà sempre qualche iniziativa che possa interessarli in maniera intelligente coinvolgerli sempre con cose interattive e al padiglione S e al Palasport avremo invece un palco dedicato ai più grandi per l'interattività, per gli spettacoli, per tutto quello che può rappresentare la musica, la danza, lo sport e lo stare insieme quindi anche gli appuntamenti serali saranno veramente un'opportunità tutta da provare